Niente, è funzionato una mattina, crescendo dire a me, e che ci faccio? Io lo rubo, integro, da resto ci dà l'ingegno, e qua, guarda qui le vede, crescendo per me, e poi, arrodonda, ero cavaliere, le donne costano, ed io sono un uomo di mondo. Corino? E poi subito, arrivi a te, come se... Arrivederci, come se... Sicurativo, la comprati? No. E io ti metto un po' di bello. Ma se non lo ho messo? Eh, bisogna sapevo vendere, vedrai quando sarà uscita la pubblicità sui giornali. La parte è la più di te, come se... Oddio, la cosa? Ma chi era? Ma cosa fai, che sei digno? Tutti i giorni nella stessa storia, è la fine di questo giorno. Io lo so, ma sempre si vede... Dopo tanti anni, c'è ancora paura dei bombardamenti. Ma quando ti convincerai che la guerra è finita? Finita. Spesa. Vergogna, ma che uomo sei? Un uomo che ha portato, nulla è stata non lì. Tutte le tante i verzi, non gli ho sentito, ce li fa. Il cavaliere, cioè il capo ciò. Questo depurativo è un'assidenza, io sono pronto. E qualunque l'uomo vuol dire, guerre, terremoti, rivoluzioni, carri e diritti, io ho sempre paura, che arrivo a dire questo, che di me che un mitra qui, in questo momento, che tra la siena, io avrei fatto un po'. Paura e donne lunghe. Chiamami vento, io sono un uomo di mondo. A proposito, è sabato ed è mezzogiorno, vado in ferie. Ha un fine? No, tu non parto. E quel fine? No, in te lo leggera pubblicità, tu giornale con la tua fotografia, tu non parti. Dove uscire oggi? Non c'è? Non parto. Questi giornalisti, ma è il signore. Pronto? Cazzetta di Napoli? Ufficio pubblicità? Cicillo, sono io, Nicola. Nicola! Mi come Napoli, co come colla. La, come musica. Ecco, sì, bravo. Perché non è uscita mia fotografia? Ma tu mi vuoi lo dirai, eh? Ah, Nicoli, il costo depurativo. Va bene, te lo pubblico oggi e il pomeriggio. È stato tranquillo. Ah, c'è miseria. Datti quella cancetta. Datti quella cancetta.